wey ciao patatoni bentornati qui a gli indimenticabili il format dove io e umberto pelati fumetti vi raccontiamo fumetti dimenticati nel percorso perché magari c'è uscito qualche bel volume che li ha dombrati oppure volumi che non si trovano più e avrebbero bisogno di una ristampa insomma cercheremo di cercare nel percorso cose ci siamo persi di bellissimo anzi di indimenticabile e ricordiamoci che questo format qui va in onda in diretta ogni martedì mercoledì comunque seguite nostri social sulla pagina pelati e fumetti twitch.tv slash pelati e fumetti oppure potete vedere in video sul mio canale youtube consiglino richiesti iscrivetevi perché sto quasi vanno a un milione mi mancano ancora 999 mila 900 follower sì sì potere pelato potere peloso va bene e c'è un bettine distante di tutto distratto non mi vuoi più bene come una volta siamo arrivati alla nonna puntata e ancora non finirà mai perché c'è sacco di roba da ricordare a fine stagione 1 niente a parte che le vacanze dove andiamo in vacanza quest'anno io vado a riccione no come io vado a me non mi piace sta roba non andiamo insieme insieme dove andare te vai a riccione vai ma va ti pare io sto a milano vai vedi ma già te a riccione secondo me sei figo tipo io tipo sulla panchia sotto l'ombrellone così io posso dire ti pagherei anche 20 euro per vederti se vuoi poi pagarmi il viaggio a rimini comics andiamo a rimini comics con me sotto che guardo la gente male così ma scusami facciamoci invitare rimini comics non vi serve uno che guardi male la gente in cosplay un po zozzo che ubriaca vaga per rimini io sarei così ubriaca vabbè rimini comics la gente va scusami tu robi il cazzo che non bevi mo bevi no 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 non hai capito niente guardo male la gente ubriaca ah quindi perché stai qua con me scusami che sono quasi sempre sbronzo anche in questo momento sono tornato dal bivificio lambrate strano non l'avrei mai over utilizzo di alcolici no no assolutamente no ma parliamo di cose seri siamo qui per parlare di fumetti non di vacanze no non di vacanze perché andando alle vacanze tu non mi vuoi invitare è una cosa brutta ne parleremo in separata sede no ubriacarsi e le ragazze in cosplay ok va bene ho capito però non vuoi vendarci con me è una cosa brutta andiamoci se mi paghi il viaggio io vengo perché sei così alto perché sono alto perché non posso essere alto che stai combina sono alzato ma stai nano di merda fammi pigli i fumetti oggi parliamo di fumetti fumetti importanti fumetti che hanno segnato un momento nella storia del manga addirittura no ah ok mi stavo emozionando oggi parliamo di un piccolo bizzarro capolavoro del manga che si chiama di psycho di cui ho portato soltanto parte dei volumetti perché in tutto sono 24 non mi andava di portarne qui 24 potete notare tra l'altro la simpatica gradazione cromatica ho visto che ora va solo in versione video questo formato che passano dal giallo al bianco credo che questi siano stati per un po di tempo sul mio tavolo nella vecchia casa dove prendevano il sole infatti sono molto più gialli da un lato che dall'altro ma non è vero ma siete sai che l'ho iniziato a leggere soltanto che a un certo punto l'ho droppato mi ricordo perché forse al primo volume addirittura allora alla mpd psycho perché mpd multi personality detective psycho ecco che già io darei subito una visione telecamerosa guarda ci faccio vedere dottore dottore ci parli ci parli e direi che una delle particolarità del manga sono proprio le sue copertine molto 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 inquietanti come potete notare che non si capisce assolutamente di cosa parla dalle copertine però sono tutte super mega e ultra inquietanti con questo forse è un po' citazionista di lost in space anche se non c'entra niente hanno sempre le cose con il cervello questo perché perché multi personality c'è anche scritto no non è vero nei labirinti della mente era sottotitolo italiano non ho idea se anche in giappone avesse un sottotitolo simile le labirinti della mente mi sa tanto di sottotitolo italiano brutto anche a me in ogni caso multi personality detective perché il protagonista appunto è un detective che soffre di personalità multiple e quindi c'è tutta questa difficoltà nelle indagini però c'è una personalità un po' più sì ma come fa a dare una mano infatti c'è una personalità multiple perché è matta l'altra personalità è un po' psicopatica e quindi viene ispirata a questi disegni molto puliti e molto anche stylish e anche molto 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 gov ora primissimo caso che mi ricordo c'era un tizio che piantava alle sue vittime dei fiori nel cervello credo ci sia anche una versione forse addirittura live action di questo sto avendo un un flash un flash ne sono abbastanza certo credo che l'avessi in versione illegale tra l'altro forse mi ricordo male ma scusa ma c'è che sull'internet come fanno le versioni normali dici un po' così questa ma sì mi ricordo forse che c'era un archa misera e per controllare no 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 me la ricordo qua dicono della chat per fortuna c'è gente esperta sì c'è la serie di tv di takashimike che non è uno qualsiasi uno che fa tipo tre film l'anno perché secondo me era andata tipo su tele più una roba del genere noi parliamo comunque del 2004 inizio pubblicazione italiana e vediamo se c'è qualche informazione giustamente me l'hanno diviso in manga non potevano farmi una singola voce vabbè comunque guarda viene serie televisiva guarda eccola qua vediamo dove l'hanno pubblicata in italia forse c'erano addirittura i dvd sei puntata addirittura solo trasmessa dall'immigrazione televisiva è da kummaier film festival in italia da zone fantasy canale satellitare estribuita censurata da apposite toppe in pixel individuata dalla dolmer ma come con le apposite toppe in pixel ma probabilmente ce l'hanno anche nella versione originale top in pixel non lo so non lo so chi può dirlo ma quindi come perché come fa a risolvere i casi anche se c'è una ma il problema non è questo in realtà non è come mai far risolvere i casi il problema di questo problema o anche il suo lato particolare è che a un certo punto iniziano andare un tantino fuori di melone ma chi il manga ah ok non il personaggio proprio il manga per cui a un certo punto iniziano i personaggi iniziano a scambiarsi le menti inizia c'è questa leggenda di questo personaggio mitologico che pareva essere le ali che aveva contagiato con la sua psiche le altre persone poi inizia a trasformarsi in battaglie mentali nel cervello dei vari personaggi quindi è veramente un viaggio molto molto bizzarro infatti se noi notiamo le ultime questo è l'ultimo volume come ve lì ci sono cose piuttosto strane puoi notare effettivamente che vanno un po' oltre il giallo che era all'inizio una cosa molto particolare in realtà che uno dei protagonisti di questo manga è appare anche nell'altro manga di shuo tiji shuo da jima o forse di aiji o tsuka aspetta guardiamo e che è quello quello in cui ci sono i tizi che portano i cadaveri sono i tizi psichici che trovano i cadaveri e li portano al affoggia non affoggia però li trovo vediamo se è lui che schifo questa pagina wikipedia è veramente come si chiama il fumetto scusa non ti ricordo come si chiama il fumetto figurati se mi ricordo procuro qualcosa cosa succede in quest'altro fumetto qua di kurosaji course delivery service che in italia l'hanno pubblicato sì 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 pubblicato sempre da panini e fumetto che tra l'altro avevano concluso in giappone ma poi è ripartito solo che è ripartito solo in giappone cioè nel senso a una fine a un finale al classico finale un po aperto del ci rivedremo un giorno era molto a caso in realtà il fumetto quello che poi in giappone dopo tipo qualche anno è ripartita proprio ripartito con con i volumi nuovi c'è neanche da da uno con una nuova stagione proprio ripartito da noi no ma chi lo pubblicava panini è grande mpd psycho però l'hanno finito e col 24 ci hanno impiegato un po perché appunto il primo è del 2004 questo è del 2017 13 anni infatti era uno dei problemi del manga in realtà il fatto che ne usciva un numero ogni boh e quindi diventava un po' adesso si trova mpd psycho rinnovo la questa cosa quindi è un no non mi fare tipo il criptico i manga di panini comics planet manga vecchi raramente si trovano planet oggi ristampa un po' però ristampa le cose nuove per cui ristampa le cose conosciute oggi questo è finito ormai il primo 17 sembra ieri eh ma non è ieri no sono sette anni e quindi boh ebbene ci è rimasto male speriamo che lo ristampi se non è che potrebbero ristampare mpd psycho davvero poco probabile perché è un manga anche lunghino sono 24 volumetti però ci starebbe nel senso che comunque è un'opera sempre attuale particolare con dei bei disegni tra l'altro il problema è che certi manga non li ristampano anche perché non c'è il treno di un anime non c'è il treno di un film tornasse di moda la serie tv però è molto fighino anche perché è molto particolare c'è tutte queste cose psicologiche appunto degli scambi dei personaggi c'è è strano no non mi hai mai convinto io avevo letto il primo numero ma ero giovincello vuoi leggere? presto? quando l'ho lesso no ma ci penso ci penso è giallo è un giallo infatti è un thriller si vede che è un giallo guardate com'è un giallo che forte tu sei un battutista fantastico il battutista sì avresti rubato il lavoro per fortuna che invece non fai un cazzo comunque dicevamo eh sì tu così non ti fai battute li devo fare io io mi do cioè ognuno c'è il suo anche voi è il mio format essere comico e simpatico come un tu comico e simpatico comunque vogliamo un attimo dire freg tu fai sempre fumetti papallosi sofisticati sembra abuzza sotto il naso si ho questo autore francese morto suicida perché si è dichiarato pedofilo ma poi non lo erano soltanto perché si sentiva in colpa per la madre morta nei campi di sterminio nazisti e quindi basta allora oggi voglio portare un fumetto pop di un autore pop che però tra i fumetti pop di questo autore pop se ne parla pop pop eh grandi battute tu invece proprio battute che uno non ci arriva no comunque parliamo di mph sai che non lo vedono poi fai mettere la regia meglio tu fumetti c'è scritto fumetti dove sta scritto fumetti sopra ah ok ooooh battiamo mph di mark miller and uncle mph mph mark miller che è famoso per fare fumetti molto leggeri che si prestano molto a diventare film sembra quasi che lui pubblichi degli storyboard di film possiamo dirlo solo che due terzi poi non diventano film anche se si coppano i diritti eh beh non dici come diritti che cazzo mi frega a lui no la cosa bella è che a differenza di molte miniserie di mark miller come tipo super ladri come si chiamava super crux sì una non ce l'ho super ladri che io ho trovato un finale un po' all'acqua di rose hanno fatto tipo l'anime hanno fatto hanno fatto i cartoni animati hanno fatto che non ho visto perché ho visto il fumetto l'ho trovato un pochettino debole così come molte altre miniserie altri sono molto belli tipo ash tipo nemesis magari potremmo anche parlare però quelle sono già più famose mph mi ricordo che ne parlarono male fu anche recensito male eppure lo reputo una sai che non mi ricordo se ce l'ho delle storie più divertenti di quelli di mark miller cioè se cercate dei dialoghi profondi non dovete cercare mark miller se cercate qualcosa un divertimento spensierato ma non stupido perché dico sempre sto discorso dello spegnere il cervello dello spegnere il cervello è una cacchiata e se ce l'ho va sollazzato cerchiamo di di sollazzarlo in modo intelligente ora di cosa parla mph mph parla che a un certo punto nel mondo così a cacchio di cane così cacchio cacchio cazzo cazzo arriva un supereroe ma è velocissimo proprio che fa un bordello che proprio non ti dico lo catturano anzi lui dice mi dispiace ragazzi spero che non l'ha fatto male a nessuno catturatemi passano gli anni passano gli anni e a un certo punto il nostro catturato questo supereroe ma è il spevau non mi ricordo fatti i cacchi tuoi comunque che succede sta storia si poi si va a intrecciare con un tizio che sta in prigione non per colpa sua ma comunque uno che fa cose non troppo dirigenti cioè col suo amico c'è la ragazza a un certo punto trovano questa droga nella carcere che sembra del potere di andare velocissimi proprio proprio come se fossi nel film di X-Men in un futuro passato quando fai tipo l'X-Men lì quicksilver io parlo anche per quelli che trovano il canale il figlio di Magneto nel film tra l'altro io cerco di fare un parola a tutti quanti ci sono tutte queste scene che ricordano quel film quindi molto divertente per quello quindi di spettini le cose qual è la questione è che a un certo punto il tizio catturato 30 anni prima dice aspetta un momento voglio parlare con la polizia perché non hai mai voluto parlare con noi che ti è successo ora voglio parlare perché è arrivato il momento giusto e darà una mano alla polizia perché sembra sapere qualcosa di queste pillole ora perché ve lo consiglio perché è leggero è divertente e ci sono i viaggi nel tempo che a me mi fanno imbazzire i viaggi nel tempo no i viaggi nel tempo se li fai bene non fai quei viaggi che puoi fare tipo metti i viaggi nel tempo in multiverso e poi li va a battere ma che ti spiega in multiverso ma che cazzo ne si abbattere in multiverso ma tu mi devi dire il multiverso è un Michael Keaton tu che cazzo ne sai di multiverso diciamo il multiverso è una questione di cui sappiamo spaventosamente poco no il multiverso è una questione di cui sappiamo spaventosamente troppo quindi quando ti fanno una roba fatta bene con pochi viaggi fatti che hanno un senso perché la trama non devi disperderla per far vedere che sei intellettuale la devi racchiudere perché tu vuoi raccontare qualcosa farei fare un messaggio e questo qui è un messaggio che ti fa facile in modo divertente ma non in modo stupido quindi MPH se vi piace Mark Miller o non vi piace ma volete leggere qualcosa di leggero secondo me è una delle opere ottime per chi ama il genere superoristico ama il comic americano e vuole leggere qualcosa di non troppo non so se ce l'hai ma perché uno stai a chiedere a me che casa tua io non lo so se ce l'hai da qualche parte perché la zona Mark Miller è là da qualche parte vabbè poi cercheremo la zona Mark Miller stai più tranquillo adesso molto stai più tranquillo vabbè quindi tocca di nuovo a me si tocca di nuovo a te hai rotto il cazzo vai vediamo cosa hai portato è schifo i viaggi nel tempo ma smettila smettila io vi ho portato la cringiata con i viaggi nel tempo a Lucky a Lucky cos'è un fumetto no sfortunatamente ah vi ho portato un vero cult del fumetto questa volta è un piccolo cult del fumetto supereroistico perché Astro City di Kurt Busiek con i disegni di Anderson e Anderson di cui non ricordo assolutamente il nome bensì non c'è non ha nome è un uomo senza nome come Morgan no è Brent Anderson e tra l'altro con le copertine e gli studi dei personaggi perché era il periodo in cui faceva solo quello di Alex Ross lo vedete è lui Alex Ross eh sì Alex Ross è proprio così irreprensibile Alex Ross Astro City fumetto della complicato Image poi Homage Wildstone poi DC basta poi sempre DC soliti discorsi di Jim Lee che si crea la sua casa elettrice poi dopo sette e meia anni li ha rivendere la DC Comics perché forse è più comodo fare il dipendente non devo farmi non devo sbattermi quindi la Image è stata venduta la DC non ho capito no ma Wildstone sì non lo sai la storia no no Jim Lee crea la Image insieme agli altri Eric Larsen eccetera sì ognuno ha il suo studio Jim Lee aveva Wildstone Eric Larsen aveva gli iBoost audios adesso non mi dicono tutti i nomi Highfield aveva gli Youngblood non era così il suo nome Max Bohr mi ricordo Extreme tipo una roba così era Highfield e Jim Lee tipo nel 98 quindi circa sei sette anni dopo ha rivenduto tutta Wildstone DC e non per niente adesso tutto quello che esce in DC Comics c'è di Wildstone Wildcats e DC per quello Alan Moore che decide basta io non lavorerò mai più per le Major del fumetto apro la mia etichetta all'interno di Wildstone di Jim Lee ABC Comics e dopo sei mesi si è ritrovato a pubblicare in DC Comics Porello la gioia di Alan Moore ci sarà rimasto male Alan Moore si è incazzato nero credo non per niente adesso è l'autore originale di metà dei titoli comunque Porello Astro City di Carl Busy che è una sorta di mega omagione al fumetto di supereroi perché questo è Samaritan direi che evidentemente possiamo già dire a chi potrebbe assomigliare come stile di supereroi Spider-Man si esatto o Birdman è un uccello no è un uccello a fianco a il patriota come si chiama Samaritan Samaritan ma in realtà Samaritan non è il protagonista perché questo è un fumetto estremamente corale oggi è la parola del giorno corale perché ci narrerà tutta questa città la vera protagonista è la città in cui si muove tutto un pantheon di supereroi che attraverso le generazioni e i periodi ci narreranno le loro avventure in modo sembra così old school vedendolo molto gli anni 90 di Spider-Man da primo numero come si chiamava Ultimate Spider-Man no prima di Ultimate Spider-Man c'era stato quel rilancio di Spider-Man ah quello di Byron si che era tipo chapter one madonna santa che roba brutta sembra molto anni 90 perché è anni 90 ah ok allora vedi che non c'ho occhio comunque lo stile di Brent Anderson è questo è sempre stato questo ed è molto classico ovviamente si rifà molto e supereroi classici ma reinterpretandoli e inserendoli comunque in contesti realistici quindi andando molto sul psicologico sul farci vedere l'effetto del un po' la Marvels potremmo dire d'altronde la musica ed è una serie molto molto bellina una serie molto molto bellina e anche piuttosto sfortunata soprattutto dovina un po' in quale paese Foggia l'Italia ok vabbè fa altro un sacco di extra eccetera perché l'Italia perché come potete notare dai tre volumi che vi ho portato in realtà ce ne sono molto di più questi sono di Star Comics nei vecchi Star Magazine Oro Star Oro in realtà sì Star Magazine Oro era al 31 ce n'è un altro dopo questo dopodiché i diritti non so se Star non li rinnova presumibilmente ma se li becca Magic che però li fa incartonato e ne fa tipo quattro incartonato poi però ne fa un paio anche no più di un paio tipo tre o quattro robo assurati però poi i diritti di Sea vengono poi acquistati in toto da Lion Planeta in realtà prima però Planeta non li pubblicava si vede e quindi poi i volumi successivi ancora sono di Lion ti va detto che non è una singola serie sono varie serie di Astro City nel senso che all'inizio è un po' incasinato perché fanno questa è la prima miniserie completa tra l'altro il volume come ritenantale si sta disintegrando ma questa è una cosa tipica dei fumetti vintage anche se questo effettivamente esiste anche su Amazon in versione cartonata di Lion credo ma si è brossolata non lo so non l'ho guardato però l'hanno rifatto poi e poi c'è una seconda serie che è quella stampata un po' da Star e un po' da Magic e poi c'è questa serie qua in questi brossurati di Arevo Lion che invece è la volume 3 è durata una cinquantina di numeri ma di cui gli ultimi sono inediti perché giustamente da noi siamo in Italia quindi siamo super fortunati ma perché la Lion è interrotto come al solito suo che faceva non ho controllato sulle date se è una questione che sono arrivate a un certo punto e semplicemente hanno chiuso però secondo me è andata anche abbastanza così perché il rilancio di queste è in New 52 per cui è molto probabile 50 numeri andrebbe visto probabilmente uscivano anche non è che ne facevano uscire uno ogni mese per cui potrebbe tranquillamente essere che li hanno interrotti perché banalmente hanno perso i diritti e poi Panini ha detto che cazzo ce ne fuggono povera Astro City quindi speriamo che possano ristamparlo è una serie molto bellina in America esiste le edizioni beh ovviamente Panini e DC e adesso a un momento esistono in America ho guardato esiste sia la versione in brossuratoni quindi sono usciti 5 che completano quasi tutto 5 brossuratoni da 400 pagine penso che ce ne dovrebbe uscire un altro immagino guardando i sommari e esiste anche in uscita fra pochissimo tipo omnibussone con la prima metà della serie quella roba che tipo se ha preso il ginocchio muori tipo omnibus no è un 1100 pagine sono un omnibus standard però in America ci sono speriamo che arrivi anche da noi scrivete sotto le robe di Panini meno steelbook più omnibus esatto scrivete sotto Panini pelati e fumetti e fracked ci hanno detto che nei vostri diritti di DC Comics c'è anche Astro City che è un gran bel fumetto estremamente importante e interessante e che va appunto ad approfondire a rinverdire il mito del supereroismo americano cioè sono proprio quei fumetti molto di approfondimento e di classicismo riportato alla modernità che secondo me sono molto interessanti e Astro City era veramente bello e apprezzato ai tempi io mi ricordo che quando uscivano i primi di questi che dovevano averne mai sentito parlare da nessuno di quelli recenti però i primi erano veramente 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 belli io quando lessi il primo ci rimasi molto sotto infatti poi mi ricopre tutti quelli che uscivano quando poi arrivavano quelli magic brutti senza la grafica di copertina ho detto oh bell in realtà ho visto su come Xbox esiste anche con una grafica decente forse questo è tipo la variant non lo so 22 mila lire costava che all'epoca erano un sacco di soldi vabbè erano 11 euro no erano 22 euro diciamo le cose come stanno l'inflazione ci ha uccisi in realtà non costano 22 euro questi oggi costano 28 euro no questo è piccolino non so quante pagine siano ma vediamo se c'è il numero di pagine o è un fumetto alla panina no è che c'è le pagine grosse c'è i disegni a tutta pagina tra l'altro c'erano anche i personaggi a cartone animato perché appunto è un mondo molto estremamente particolare e ovviamente in ogni saga mini saga affrontava personaggi diversi con ovviamente sottofondo comunque sempre quelli classici che apparivano tipo c'è il buffone che non è cattivo è buono in realtà era molto certo tipo il fantasmone piccato è estremamente bello perché poi piano piano andavano ad approfondirti le origini e tutte le particolarità dei personaggi era una gran bella serie l'hai letta? l'ho sentita? guarda di Carl Busy Carl Busy che secondo me è uno dei migliori scrittori americani di sempre anche più bravo di Grant Morrison è diverso Grant Morrison è il creatore di fumetti estremamente estroverso e particolare no perché è inglese lui si eh ti ho fatto a battuta eh del fumetto USA eh e Warren Ellis Warren Ellis è inglese pure lui è inglese pure lui eh si ti faccio le gag sono uno scherzo perché non si è letto in Inghilterra dove non diene frega un cazzo che si guard tennis guard tennis è meglio di Busy che guard tennis ma guard tennis è tipo Morrison se un Morrison guard tennis potresti confrontare si ma guard tennis è irlandese non è americano si vabbè però sempre sempre anglofono eh che palla però tu hai detto americani ti voglio prendere per il culo posso prenderti in giro un fumetto americano dai su anche Alan Moore scrive un fumetto americano alla fine gran parte lo scrittore originale scrittore originale ricordiamoci ma dipende in alcune cose c'è ma in altre no no si ma ci sta invece torniamo a fare i profumati no di nuovo cioè guardate questo questo manco ci sta nell'inquadratura è un fumettone enorme ragazzi guardate la mano guardate la mano è gigante la mia è molto più grande no va a fare il coglione mette la mano giusta vedi vedi quando è grosso 676 apparizioni di Killhofer chi è? rispetto a un comic book eh si ragazzi Killhofer ragazzi visto che sono risconti Coconino e Coconino sicuramente tutti gli youtuber hanno fatto i loro video vi consiglio le robe di Coconino si l'ho fatto in effetti visto che tutti quanti hanno fatto i consigli le robe di Coconino sicuramente 7 676 apparizioni di Killhofer nessuno ve la consiglia io gli voglio bene a Coconino però non ho molta esperienza dei loro fumetti purtroppo no bisognerebbe dire Coconino noi siamo qui ve li parliamo noi chi è Killhofer allora a parte che questo volume è fantastico la lettona la lettona a caso proprio è gigantesco Killhofer è l'autore e questo è un fumetto biografico dove però noi vediamo siamo davanti siamo dalle parti di Island Empire di Lynch per intenderci il flusso di coscienza fatto bene ora il flusso di coscienza fatto dagli autori Joyce non si è diventato lui il flusso di coscienza si no io parlo di cinema di fotografia parlo di messa in scena parlo io il flusso di coscienza si ho capito il flusso di coscienza si però un'altra cosa che cazzo c'entra è una mia amica si chiamava Joyce il nome ma cosa c'entra niente vabbè comunque diceva non mi ricordo più che cazzo stavo dicendo flusso di coscienza flusso di coscienza perché siamo a sei lati di Island Empire in questo fumetto vedremo un personaggio che vivrà le sue paranoie queste paranoie diventeranno visibili è una storia difficile si è una storia che potrebbe aprire un sacco di punti esatto punti punti tipo punti di come si dice tutura tutura si ha diverse chiavi di lettura non c'è un finale chiaro è un fumetto che vuole confondervi e ci riesce benissimo soprattutto è un fumetto sperimentale a livello grafico io ovviamente è uno dei fumetti che ho preso un'ispirazione per Ramiro c'è una scena che ho proprio mi ha totalmente colpito che ha voluto metterla anche nel fumetto Ramiro che comunque è un atto d'amore verso gli altri fumetti è il peggio delle IA non è facile non è facile fare flussi di coscienza senza essere o retorici o inconcludenti è capitato che a un certo punto è stata una valanga di autori giovani che voleva fare fumetti underground magari erano pubblicati da Major che puntavano subito sul flusso di coscienza come se fosse una cosa facile da fare un po' come Gaspar Noé che ti fa void senza essere bravo come Lynch per fare un flusso di coscienza devi essere bravo a narrare altrimenti è soltanto sbrodolio solo un lucignolo che si muove cioè lucignolo in testo di programma brutto con la telecamera che si muove a cazzo vediamo il nostro kickoff vediamo i ragazzi che si danno fuoco ai piedi Killhofer lui sperimenta con la tavola vediamo che diventa proprio un racconto con diverse sue apparizioni lo vediamo in stile molto De Luca qua possiamo vedere proprio lui che appare diverse volte nella scena come De Luca per dare dinamicità a delle scene ferme e poi vedremo man mano che questo suo conflitto interiore diventa proprio un conflitto è davvero un fumetto è un fumetto che è fantastico da vedere da vivere perché come i fumetti che sperimentano è un viaggio che non sapete ancora vi porterà perché è nuovo sembra io a casa questa è esattamente una scena che io ho voluto citare in Ramiro quando c'è il Giorgio che si cambia non so te ricordi sì perché banalmente io l'ho trovato di una spettorializzazione molte scene mi sono rimaste impresse perché non sempre serve una trama complessa a raccontare storie complesse in questo caso la trama è molto semplice ma quello che viene raccontato è molto denso ci metterete tanto e vi soffremete sulle tavole perché la criticità è voluta per permettere a voi di fermarvi un attimo e cercare di capire la storia è un volume difficile ma non antipatico non è antipatico non è antipatico ed è soprattutto molto divertente da sfogliare perché non sapete mai che cosa può capitare nella tavola successiva Killhofer ha già fatto un altro volume sempre scomodo perché è in formato che è grande no invece è in formato in stile tipo palloni esatto devo ancora leggerlo spero che io lo comprerò con risconti coconino sicuramente quanto dura risconti fino a che giorno non lo so non molto ancora credo prenderò sicuramente Killhofer la versione è quella lì nuova e quindi io vi consiglio se volete vedere cosa può fare medium fumetto cosa può essere utilizzato ancora per narrare attraverso questo medium 676 apparizioni di Killhofer è il volume che vi consiglio volevo chiederti una cosa dove lo tieni? lo tengo in libreria ci sta? si ci sta proprio zicco zicco come si dice è bello alto si si io ho Billy la libreria dell'Ikea che permette di scegliere ragazzi quando uno ha un volume scomodo la gente si deve un attimo attrezzare bisogna fare queste cose bisogna essere capaci capaci di trovare posizioni giuste per i volumi giusti perché se un autore è scomodo come in questo caso noi dobbiamo mettere nelle posizioni comode noi siamo noi appassati di fumetti mettiamo ordine dove c'è il caos nel caos io metto caos nell'ordine no si è andata così comunque la puntata finisce qua sono contento di averti ancora qui dove nuove puntate ci vediamo per la decima puntata fra due fra due settimane io vi dico ricordatevi che la puntata la potete vedere live su pelati e fumetti facebook.tv pelati e fumetti altrimenti la potete vedere indifferita sul mio canale youtube consigli non richiesti vi riconoscete perché se sono io che leggo un Dylan Dog disegnato quindi non vi fate vuoi dire qualcosa che salutiamo ciao ciao condividete la puntata che cos'è meno si spammatela che così diventiamo famosi e non dobbiamo più lavorare e possiamo stare qui a parlare di fumetti cocconino mandaci i fumetti mandaci i killoffer mandami quello nuovo di killoffer che cos'è meno ne parlo qui ne parlo se me lo dà mandate quanto è uscito da un po' allora si 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 ciao a tutti che cos'è meno che cos'è meno che cos'è meno